Atto 7 di Yoshitsune Senbonzakura Il palazzo di Kawazura Hogen sul monte Yoshino Yoshitsune ha infine trovato il rifugio tra i monaci del vicino tempio, ma la sua presenza sta causando la pressione tra i dignitari che temono la vendetta di Yoritomo. L'ospite di Yoshitsune, Kawazura Hogen, è appena tornato da un raduno al tempio. Sua moglie, Asuka, gli chiede se si è parlato della presenza di Yoshitsune e Hogen gli risponde che nonostante la maggior parte dei religiosi sostenga Yoshitsune, lui stesso e alcuni altri si schierano con Yoritomo perché sono convinti che Yoshitsune non ha possibilità di sfuggire al lungo braccio del fratello. Per dimostrarlo, mostra alla moglie una lettera del fratello di lei, che è un servitore di Yoritomo a Kamakura. La lettera rende chiaro che Yoritomo è perfettamente informato di dove si trovi Yoshitsune. In tali circostanze, Hogen considera che la cosa migliore sarebbe uccidere Yoshitsune e guadagnarsi una larga ricompensa, portando la sua testa a Kamakura. Asuka è interdetta e poi, piangendo, dichiara che non credeva che il marito avesse così scarsa fiducia in lei. E' vero che suo fratello è un servitore di Yoritomo, ma lei stessa non tradirebbe mai Yoshitsune, come è l'ampante che Hogen sospetta. Quindi prende una spada corta e sta per uccidersi da sola quando il marito blocca la sua mano, lodandola per la sua letà e rivelando che la lettera è un falso preparato per metterla alla prova. La porta si apre ed entra Yoshitsune, che dice a Hogen e ad Asuka di averle sentiti e li ringrazia per la loro devozione. La scena di solito inizia qui. Entra un samurai, annunciando l'arrivo di un servitore di Yoshitsune, Sado Tadanobu. Tadanobu entra, profondamente commosso di essere nuovamente alla presenza del suo signore. Tadanobu chiede perdono a Yoshitsune per non essere stato al suo fianco, quando quest'ultimo è fuggito da Kyoto. Yoshitsune gli chiede perché Shizuka Gozen non sia con lui. Tadanobu sembra confuso e spiega che è arrivato adesso da casa sua, dove ha accudito la madre malata. Yoshitsune ripete che Shizuka Gozen deve trovarsi con lui e, quando Tadanobu nega di nuovo, inizia ad arrabbiarsi. Tadanobu sospetta che Tadanobu abbia venduto Shizuka Gozen a Yoritomo e ora si è venuto lì per tradirlo. Ordina che Tadanobu venga imprisionato, ma Tadanobu rifiuta con indignazione di essere legato e si difende contro chi cerca di afferrarlo. In quel momento un altro servo annuncia l'arrivo di Shizuka Gozen e Sato Tadanobu. Tadanobu chiede con rabbia chi abbia osato prendere il suo nome. Appare Shizuka Gozen reggendo un prezioso tamburo avvolto in un drappo di seta. Yoshitsune la accoglie teneramente e le chiede perdono per il severo comportamento che ha tenuto durante il loro ultimo incontro. Quindi la interroga su Tadanobu e Shizuka Gozen risponde che era con lei fino a un momento fa. Yoshitsune le presenta il vero Tadanobu che lei non riconosce affatto. Dopo averci pensato un po' dice che sebbene quest'uomo somigli molto al Tadanobu che conosce, ci sono delle differenze nei motivi dei loro kimoni. Tutti sono perplessi. Shizuka Gozen sottolinea che se durante il suo viaggio batteva il tamburo, Tadanobu non mancava di comparire misteriosamente al suo fianco. Perciò se adesso battessero il tamburo, forse Tadanobu apparirebbe. Yoshitsune stesso non può battere il tamburo. Ricordo che nel primo atto veniva spiegato che qualora Yoshitsune avesse suonato il tamburo donatoli dall'imperatore Goshirakawa, ciò avrebbe avuto il significato di entrare in aperto conflitto contro il fratello Yoritomo. Ma dice al vero Tadanobu di nascondersi e poi prega Shizuka Gozen di batterlo, dopo averle dato una spada in caso di bisogno. Yoshitsune si ritira dietro una cortina di bambù, nella stanza adiacente. Appena Shizuka Gozen colpisce il tamburo, la Tadanobu Volpe appare. Shizuka Gozen la informa che Yoshitsune gli comanda di presentarsi al suo cospetto, ma la Tadanobu Volpe non vuole obbedire. Spaventata dal suo aspetto, Shizuka Gozen la attacca con la spada, ma la Tadanobu Volpe schiva lateralmente. Shizuka Gozen le dice che sa che non è ciò che sembra e la prega di confessare la sua identità. La Tadanobu Volpe quindi racconta la sua storia. Alcuni anni fa vivevano nella provincia di Yamato un paio di anziani volpi. Un anno ci fu una terribile siccità e i contadini non saperono più cosa fare. Catturarono una delle volpi e con la sua pelle fecero un tamburo, con il quale riuscirono con successo a invocare la pioggia. Questo tamburo era chiamato Gatsune no Suzumi e conservato come un importante tesoro. Lui stesso è il figlio della volpe la cui pelle fu usata per il tamburo. Shizuka, terrorizzata, non riesce a credere che il suo compagno di viaggio sia in realtà una volpe. Quindi, di fronte ai suoi occhi, la volpe riprende le sue vere fattezze e le dice che, per amore del proprio genitore, ha seguito il tamburo ovunque ed è stato per rimanervi vicino che ha preso le forme dell'assente Tadanobu. Ma ora è profondamente angustiata dal fatto che a causa sua Tadanobu possa accadere in disgrazia. Perciò tornerà nella sua terra e non causerà altri problemi nel mondo degli uomini. Ma, dato l'onore concesso da Yoshizune di nominarlo Yoshizune Genkuro, egli si chiamerà per sempre Kitsune Genkuro, la volpe Genkuro. La volpe quindi si inchina profondamente verso il tamburo, dicendo in lacrime che deve andare via. Shizuka Goze, molto commossa, chiama Yoshizune, che esce dal suo nascondiglio e si rivolge alla volpe con parole gentili. Ma la volpe, dopo avergli porto i suoi saluti, se ne va senza proferire una parola, tenendo gli occhi fissi sul tamburo fino all'ultimo. Yoshizune chiede a Shizuka Goze di battere il tamburo per richiamarla, ma quando lei lo fa, questo non emette alcun suono e Shizuka Goze sottolinea che è a causa del dispiacere per i figli. Yoshizune compara la realtà della volpe con il suo proprio duro trattamento da parte delle mani del fratello. Di colpo la volpe riappare. Yoshizune la ringrazia per le sue cure e la protezione di Shizuka Goze e aggiunge che vuole consegnarle il tamburo come ricompensa. La volpe è soprafatta dalla gioia e dalla gratitudine. Avverte Yoshizune che alcuni dei preti del tempio stanno complottando di attaccarlo quella notte stessa, ma lui, la volpe, ha piazzato un presidio magico sulla casa per sconfiggerli. Sei monaci armati irrompono sulla scena per uccidere Yoshizune, ma la volpe combatte con loro e li mette in fuga. Poi scompare dietro un albero di ciliesio con lavato tamburo. Il sipario si abbassa. Questa scena è generalmente omessa. La campagna è illuminata da fuochi fatui. Quattro monaci, che sono stati stregati dalla magia della volpe, entrano in scena ed eseguono una danza comica. Il sipario cale di nuovo. Il capo dei perfidi monaci, Yukawa no Kakua, è steso in trance. Si sveglia e, capendo di essere stato stregato dalla volpe, giura vendetta. Si sente la voce di Yoshizune gridare. Cosa? Norizune? Kakua si dirige verso l'anamici, ma viene bloccato da Tadanobu che rompe sulla scena. Yoshizune e i suoi servitori entrano sulla scena, chiamando Norizune e urlando i loro nomi e titoli, come prima di una battaglia. Kakua finge di non capire, ma, quando viene nuovamente sfidato, lascia cadere la maschera e si proclama Taira Norizune. Yoshizune si rifiuta di prendere vantaggio sul suo nemico e giurano di incontrarsi di nuovo e scontrarsi in un duello all'ultimo sangue. Qui finisce l'opera. Taira no Norizune, 1160-1185, era figlio di Taira no Mi Mori, 1128-1185, fratello di Taira no Kiyomori, e combatte in molte battaglie nella guerra tra Genji e Eike, e in quella di Yashima uccise Sato Tsugunobu, 22 marzo 1185, il fratello di Sato Tadanobu. Storicamente si uccise annegandosi nella battaglia di Dano Ura. Sembra si sia lanciato in mare portando con sé due guerrieri Genji, in un abbraccio mortale. La tradizione riporta che i due guerrieri in questione erano due fratelli della provincia di Tosa, noti per la loro grande forza fisica, e i loro nomi erano Aki Sanemitsu e Aki Jiro. Sebbene nel Eike Monogatari e nella tradizione sia descritto come un grande guerriero, vi sono anche fonti che lo definiscono come un combattente nella media, ma per lo più viene opposto a Yoshitsune come il migliore dei guerrieri Taira. Storicamente Yoshitsune era fuggito a nord a Irezumi, provincia di Mutsu, attuale prefettura di Iwate, e si era messo sotto la protezione dei Fujiwara del nord, il cui capo era Fujiwara no Hideira, ma la morte per malattie di quest'ultimo, suo figlio ed erede Yasu-Hira, ne tradì le ultime volontà, cedendo alle pressioni di Yoritomo e attaccando Yoshitsune e i suoi uomini con 500 armati alla cosiddetta residenza di Koromugawa, il 15 giugno 1189. In tale occasione vi fu la famosa morta in piedi di Benkei, che si parò a difesa dell'entrata per concedere al suo padrone di commettere seppuque. Il monte Yushino, alto 530 metri, si trova a parecchio sud di Nara ed è famoso perché vi si trovano 30.000 alberi di ciliegio, piantati a varie altitudini, e ospita il santuario di Yoshino Mikumari, il santuario Kimpu e il tempio Kimpunsenji, che appartiene alla setta Shigendo, fondata da Enno Ozumo, detto anche Enno Gyoja, o anche Enno Ubasoku, nell'VIII secolo ed è la seconda costruzione di legno più grande del Giappone. La prima è la sala del Buddha Alto Daiji di Nara. Nelle sue vicinanze vi è un santuario dedicato anche a Inari Okami.